Musica 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 Le ho scelte perché sono le persone di cui mi fido di più, ok? Perché sono le persone che mi hanno rivolto, non mi hanno mai rivolto le spalle contro Non sono sempre state persone più fedeli Nel senso che mi hanno sempre supportato Sempre aiutato chat Per farvi capire E ora mi ritroverò Con quella persona che magari può pure Può fare pure le sue scene del cazzo Per fare qualsiasi cosa, raga, per buttarmi in merda Per cercare di buttarmi giù Ci proverà, raga, ci proverà Potrà essere pure che io Perdi ospedatori Potrà essere pure che io Tornerò a farne 300 Tornerò a farne 400 ospedatori Perché la gente crede alla sua versione A me, raga, l'importante è che io proverò A tornare con costanza A essere la persona che ero prima Quindi, sinceramente, di stare in un team di persone Che non sono vere Ma addirittura La persona più reale Viene presa come la persona più Più falsa Cioè io Io, raga Che sono quello che Va pure a giocare con gli sponsor Off stream E va pure A dirgli pure i cazzi miei Gli sponsor Ci parlo Li tratto come degli amici E' questo il mio problema, raga Che io Porca toia, raga, mi ando a piangere Il mio problema, è il mio problema, raga, mi ando a piangere E questo è il mio problema, raga, mi ando a piangere Grazie a tutti. Grazie a tutti.